Cosa significa far maturare un credito sano? Credito sano è un credito fiscale che è inattaccabile in caso di controlli futuri, quindi dal punto di vista documentale, progettuale, procedurale, ma anche realizzativo è praticamente inattaccabile, quindi tutto corretto, tutto fatto come si deve, senza situazioni poco chiare, senza documenti mancanti, senza sistemi installati che non rispettano i requisiti. Questo è il credito sano e deve essere il mantra, generare il credito sano è il mantra per tutti quanti.